Marco Manno di lancella a 20 kg box da terra alto 60 centimetri C'è 3 secondi dal countdown 15 box over e 15 tratti 3, 2, 1, go Dai Marco, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va bene 15, stop, 15 tratti Non puoi scendere, non puoi scendere troppo, non puoi scendere, no no riparti da su, riparti da su, vai Giù 1 2 Sì Entra con la testa, eh 4 Bravo 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 12 12 Buono Ok No dove vai boxe! No no boxe boxe! E poi non droppare il bilanciere 1 10 3 Calma hai ragione! Calma hai ragione! 9 5 Perfetto Marco hai ragione! 6 7 8 10 10 12 12 13 Dai! Bravissimo! 12 12 15 Buono! Scendi bene, eh Non dropparlo per il bilanciere Vai! 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 Giù! Scendi! 2 Guarda alto! Scendi! 3 4 Scendi! 5 A testa 6 Bravissimo! 7 Bravo scendi! Bravo! 8 9 Appoggialo sul petto 10 Entra con la testa Dai! 11 Bravo! Vai! Vai! 12 Bravissimo! 13 Scendi sotto le line 14 Dai l'ultimo! Dai! 15 Buono! Ancora! Boxe! Vai! Muovivelo lì! Cominci a muovere! Veloce! Marco, dai che ce l'hai! Dai! Bravissimo! 4 Dai! Bravo! 5 Basta! 6 7 Bravo! 8 Dai, sei nel tempo Marco! 9 10 Dai! 11 12 13 Dai! 14 Dai! 14 L'ultimo! Dai è finito! 15 Buono! 15 thrust! Basta! Dai! Poi si passa il roll! Respira eh! 15 10 1 3 Entra qua la destra! 3 3 3 5 5 4 Dai! Dai veloci! Dai Marco ce l'hai! Dai forse è finito! 5 Altri 10 Vai! Vai ora! Serra! 6 Scendi al volo! Scendi al volo! Non ti ferma lì! 8 Dai! Entra con la testa! 9 Dai! 10 Dai! 11 Va bene! 12 Dai è finito! 13 Dai! Entra! Entra! 14 Dai! 15 Buono! Valori zero! Vai! Vai eh! Non ti fermare eh! Fai le corte le prime! Dai! Ok! 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 Ottimo! Bravo eh! Dai eh Marco! Dai! Dai! Fai le 51! Dai! Ancora! 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 C'è un minuto in mezzo! Bravo! Sì! 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 L'ultimo minuto eh! Serra ora eh! Serra spingi quelle gambe! Sfingi! Bravo! Sì! Sì! Ottimo! Sì! Dai Marco dai! Sì! 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 Brava! Bravo! Ma Clinical! dai 20 secondi si questo dai dai bravo 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 dai bravissimo dai bravissimo dai bravissimo ok 10 secondi non mollare 10 secondi non mollare alla morte dai forza dai 5 4 va avanti 3 stop bravo bravo 31 calorie bravo